La Germania ha il suo anonimo Robin Hood. Uno sconosciuto sta lasciando buste piene di denaro nelle cassette delle lettere degli istituti che si occupano di disabili o fra i messali lasciati alla disposizione dei fedeli delle chiese di Braunschweig nel nord del paese. Lo sconosciuto benefattore ha già donato 190.000 euro.